Ciao e benvenuti a The Palette, il podcast International House London che parla dell'apprendimento e l'insegnamento delle lingue. Io sono Laura e oggi parlo con una delle nostre insegnanti d'italiano, Vania. Vania ci parla della cultura italiana. Parla di cibo, moda, architettura, le feste e tantissime cose in più. Ciao Vania, come stai? Ciao, sto molto bene, grazie. Tu stai bene? Bene, sì, grazie mille, sto bene anche. Allora, mi piacerebbe parlare della cultura italiana in generale. Possiamo parlare di tantissime cose, ma per quanto riguarda le tradizioni italiane, forse le cose più quotidiane, secondo te quali sono le cose veramente italiane, cioè le cose che definiscono la cultura italiana. Io parlando un po' sulla base anche della mia esperienza è sicuramente l'amore per il buon cibo, quindi questa attenzione incredibile agli accostamenti, ai sapori, anche alla qualità, insomma. E poi il piacere dello stare a tavola e chiacchierare, cioè il fatto proprio di gustarsi questo momento che è quello del pranzo, della cena, soprattutto della cena, oppure anche quando si esce con gli amici, veramente gustarsi non solamente la cena, ma anche il momento dopo. Quindi si rimane intorno a una tavola, si chiacchiera, si sorseggia, si gusta un buon vino. Questo lo trovo veramente tipico della cultura italiana. E poi sicuramente anche l'atto proprio che la gente sia molto socievole, molto aperta, sempre con la voglia di chiacchierare, ecco. Li trovo tipici della cultura italiana. Sì, sì. Quindi il cibo è tipo una delle cose più importanti allora della cultura italiana. Sicuramente è molto molto importante. Poi sì sì, assolutamente, proprio per noi è quasi una scienza. Sì, è vero. È una religione anche. Sì sì, cioè è una cosa che vedo che soprattutto quando sei all'estero colpisce perché noi tra virgolette a volte ci scandalizziamo di certi accostamenti perché per noi ci sono delle regole assolutamente precise. E in questo devo dire che l'altro l'altro punto, l'altro elemento sicuramente molto forte della cultura italiana è la moda che per noi è come il cibo. Cioè c'è una scienza intorno a quello. Quindi l'italiano sta attento agli abbinamenti in una maniera incredibile. la scarpa che è abbinata alla borsa, che è abbinata alla giacca, che è abbinato una delle cose che un italiano solitamente dice quando va all'estero è oh finalmente sono libero di vestirmi come mi pare e non mi guarda nessuno. Perché in Italia ti guardano, guardano se sei messo tutto abbinato, capito? Ed è vero, effettivamente è così, è così. Oh no, sì sì. Allora, con tante tradizioni, tanta storia, esistono moltissime feste in Italia anche. Secondo te quali sono le feste italiane più importanti? Dunque, io partirei dal Natale. Il Natale è molto molto importante e solitamente è passato in famiglia, quindi ci sono ovviamente le famose, i famosi transi e cene natalizie, quindi il Natale. Poi il Carnevale, che è intorno al mese di febbraio, è una festa anche questa che è molto celebrata, ci si traveste, ci sono insomma eventi un po' in giro in tutta Italia. La Pasqua e poi abbiamo la festa della liberazione, che è il 25 di aprile e che riporta indietro al 1945, quando terminò l'occupazione nazifascista. La festa dei lavoratori del primo maggio. Poi, imperdibile per un italiano, è la festa del 15 di agosto, che si chiama Ferragosto, ed è, diciamo così, per noi è il giorno della vacanza estiva per eccellenza. Quindi, veramente, quel giorno lì ci sono, soprattutto sulla costa, sulle spiagge, feste, di tutti i tipi, insomma. Ma in generale, per l'Italia, il giorno di Ferragosto, il 15 di agosto, è proprio vacanza, è proprio l'emblema delle vacanze. Poi, come festa, diciamo, poi abbiamo il primo novembre, che è la festa di tutti i Santi, seguita poi il giorno dopo dalla celebrazione dei defunti, anche se il 2 di novembre non è festa nazionale, invece il primo novembre sì. E a questo vorrei aggiungere una festa tipicamente italiana, che è quella del 6 di gennaio, l'Epifania. Allora, l'Epifania è una festa proprio riconosciuta in Italia, quindi giorno di vacanza, e allora ha, diciamo, due risvolti. Perché, da una parte, è una festa che si associa alla Chiesa Cattolica, che, diciamo così, riconosce nell'Epifania il momento dell'adorazione dei magi alla nascita di Gesù. Quindi i magi arrivano dall'Oriente e portano i doni da rendere omaggio al bambino Gesù. Poi abbiamo, accanto a questa tradizione religiosa, abbiamo questa figura popolare, tipicamente italiana, che si chiama Befana. Che è questa vecchietta, è questa vecchietta che vola su una scopa con il sacco pieno di regali e che porta i dolci e i regali ai bambini passando dal camino e li mette nelle calze che vengono messe attaccate al camino. Se il bambino ha fatto un po' il birichino, come diciamo noi, allora troverà solamente il carbone nelle calze. Oh, poverini! Ed è una festa che, quando io ero bambina, per esempio, era veramente molto, molto importante. Per esempio, a casa mia non veniva Babbo Natale, veniva solo la Befana. Quindi io i regali li ricevevo il 6 di gennaio quando arrivava la Befana. Babbo Natale non lo conoscevo. Adesso, ovviamente, Babbo Natale è il dato più importante, però rimane comunque, insomma, presente la figura della Befana. Quindi la Befana più, beh, è proprio italiana, allora. Sì, 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 esatto, esatto. E nella tua regione d'Italia, l'Emilia-Romagna, ci sono anche delle feste specifiche? Sì, ci sono tutte queste sagre paesane legate a dei prodotti anche della stagione. E poi, ad esempio, tra le feste specifiche possiamo avere il Carnevale di Cento, che è un paese vicino a Ferrara, dove si tiene uno dei carnevali più noti d'Italia. E' organizzato da sei rioni della città e si distingue proprio per queste sfilate di carri allegorici, per cui veramente vale la pena andare a vederlo. E poi abbiamo, ad esempio, un altro evento, è il Palio di Ferrara, che consiste proprio in questa mirabolante corsa di cavalli organizzata tra le otto contrade cittadine per conquistare il drappo dedicato a San Giorgio, che è il patrono di Ferrara. Ok, quindi c'è una versione a Ferrara anche, non solamente a Siena. Esatto, esatto, esatto. Allora, penso che esistano delle differenze culturali fra le regioni, regioni differenti d'Italia. Quali sono le cose più notabili che cambiano secondo la regione? Dunque, veramente l'Italia è veramente molto varia. Sicuramente direi che partiamo dalla lingua, quindi ogni regione ha il suo dialetto e in alcune regioni viene ancora utilizzato per comunicare anche tra i giovani, mentre in altre sta scomparendo. Per esempio, nella mia regione i giovani non lo usano più, mentre invece, ad esempio, ci sono delle regioni del sud d'Italia dove veramente ancora è utilizzato anche tra i più giovani. Poi abbiamo ovviamente il cibo, le specialità da regione a regione, ogni regione ha le sue specialità. Io oserei dire che ogni paese ha la sua specialità, anche per quanto riguarda il vino, per cui veramente il cibo è molto vario. Il clima, perché dal nord al sud abbiamo veramente, attraversiamo tutti i climi, nel senso che al nord è piuttosto freddo d'inverno, mentre invece nel sud abbiamo un'estate veramente lunga, cioè nel senso, partiamo da aprile, arriviamo fino a ottobre nel sud Italia. Ecco, e poi anche l'architettura, abbiamo stili diversi, anche legati alle diverse occupazioni storiche, insomma, nelle varie regioni, insomma, anche a livello architettonico ci sono veramente stili diversi. Allora, quali sono le cose culturali più emblematici della tua regione? Cioè, le cose che tutti riconoscono come abitudini, costumi o prodotti della zona? Ma sicuramente ci sono alcuni prodotti tipici, che sono il parmigiano a livello alimentare, la piadina romagnola, il prosciutto di Parma, poi abbiamo alcuni vini anche tipici della mia regione, come ad esempio l'Albana di Romagna, che è un vino bianco, il Sangiovese, l'Ambrusco, la Cagnina, il Trebbiano di Romagna, sono tutti vini tipici della zona. E poi abbiamo sicuramente la vita per quanto riguarda la costa, la riviera romagnola è riconosciuta in tutta l'Italia come simbolo di divertimento estivo, per cui i giovani italiani una volta nella loro vita sono tutti venuti sulla riviera romagnola, per le discoteche anche, per le feste sulla spiaggia. e soprattutto un'altra caratteristica sempre della riviera proprio, è proprio questa che è un po' tipica della nostra zona, è il fatto che questi stabilimenti balneari chiamati bagni sono organizzatissimi e permettono, quindi offrono, si può mangiare, si può noleggiare il lettino, ci sono un sacco di attività legate proprio allo sport, per cui se uno vuole fare una vacanza in cui è tutto ben organizzato, ecco viene lì. Le spiagge sono organizzatissime con eventi, anche per le famiglie, per i bambini, è tutto tutto super organizzato. E poi aggiungerei tutti questi piccoli borghi medievali che si trovano sulle colline e l'arte della mia regione in ogni città che ho menzionato, sono tutti aspetti veramente tipici della mia regione. Ho capito, ho capito. Ok, allora grazie mille Vania per averci parlato oggi, abbiamo imparato tanto, veramente. Grazie a voi per avermi invitato a parlare della mia regione che io amo. Grazie mille Vania, arrivederci. Ciao, arrivederci. Ciao, arrivederci.